Cari amici, benvenuti anche oggi come sempre a Radio Astralfly, stiamo seguendo con i nostri programmi come ogni anno nuovamente nuovi stimoli anche con nuovi temi un pochettino aggiornati, Radio Astralfly è abbinato come sempre all'AZK, anti-censur coalizione internazionale, così lavoriamo con delle varie reti sia online che naturalmente anche a livello radiofonico su varie stazioni oppure televisive internazionali. Oggi il tema semplice per la spiegazione di nuove cognizioni sul volo astrale. Noi tutti quanti conosciamo le elaborazioni dell'iperspazio quando mandiamo un'email che praticamente ci mettiamo, ci aggiungiamo delle immagini o della musica, il testo stesso e quando clicchiamo per mandare l'email praticamente senza spazio lui fa una teleportazione del prodotto da A a B senza dover fare il viaggio che è una cosa che entra nell'iperspazio dello spazio sibernetico e arriva subito al destinatario. Con il volo astrale che è una forma di meditazione, alta meditazione sulla stessa base, quando noi praticamente riusciamo a esteriorizzarci dal nostro corpo e vedere lo schermo della nostra mente che funziona esattamente più o meno come lo schermo che abbiamo sia del telefonino o del computer, ha delle funzioni chiare e semplici che noi possiamo entrare nell'iperspazio naturale e praticamente avere il pilotaggio e dare gli ordini per la visualizzazione sul nostro schermo della nostra mente e dal terzo occhio di vedere delle cose che noi praticamente come quando andiamo online nell'internet chiamiamo l'indirizzo di una website e questa website ci appare davanti agli occhi sul nostro schermo. La funzione dell'intelligenza artificiale e dell'intelligenza naturale sono praticamente due universi paralleli che funzionano sulle stesse leggi naturali. se nella virtualità dell'iperspazio sibernetico quando lavoriamo online ci troviamo a dare degli ordini e cliccare dei bottoni di comando che praticamente funzionano sulla base dell'informatica e dell'informazione trasportata dalla luce, nella vita naturale, nella vita normale le stesse funzioni funzionano nello stesso modo. Dunque se noi ci occupiamo di meditazione o di spiritualità naturalmente con la nostra mente avendo la chiarezza dello schermo del nostro terzo occhio possiamo visualizzare tutto quello che ci interessa. Queste sono dal punto di vista della storia dell'archeologia industriale vecchie tecnologie che i sapienti di una volta oppure i governanti di una volta naturalmente dalla loro base praticavano. Oggi con l'informatica e l'internet abbiamo naturalmente lo sviluppo di queste cognizioni mentali dell'intelligenza naturale che viene usata per programmare tutta l'intelligenza artificiale. Dunque volo astrale funziona esattamente in base se la gente che conosce un pochettino le tecniche di meditazione arrivando alle basi superiori della meditazione che la meditazione è una specie di igiene dell'anima per tenerla pura, per illuminarla, per fare che ci sia più luce, che la luce appunto porta, trasporta informazioni, il volo astrale funziona esattamente come quando tu vai online e fai il surf dentro l'internet solo che funziona con la tua mente. A posto di avere lo schermo dell'intelligenza artificiale usi il tuo schermo della tua mente ma la sistematica e la funzione è praticamente la stessa. Dunque per tutti quelli che a questo punto si interessano un pochettino del surf nell'internet, nell'iperspazio sibernetico che dà la base semplice di mandare un email o un messaggino o anche come vedete adesso su YouTube qui al canale Interstellar 100 perciò si chiama Interstellar 100 perché ha la possibilità di dare informazioni su una rete, una rete che in base diciamo telepatica a livello del senso, della cognizione, della comprensione, del funzionamento, il volo astrale, il volo perfetto che diciamo storicamente ci ricordiamo le storie di Icaro, il saper volare, tutte queste basi di idee, concetti a livello universale, spaziale e naturalmente anche iperspaziale perché al di fuori dello spazio abbiamo ancora altre dimensioni che stiamo scoprendo adesso anche con la fisica quantistica eccetera. Niente, questo era il tema di oggi, semplice per dare qualche stimolo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che ci seguono da anni, il volo astrale, meditazione dunque riconoscere il proprio schermo della propria mente ed avere la possibilità di combinare la pratica di come si usa l'internet, di come usate il telefonino, di come usate il vostro computer e capire che l'intera intelligenza artificiale con tutti i sistemi in cui fanno i prodotti online, che la nostra mente praticamente è l'origine dell'idea, del concepimento dell'intera sibernetica, psicotronica, biotronica e tutte le funzioni dell'intelligenza artificiale provengono dalle nostre menti. Dunque, capendo il sistema dell'anatomia della mente umana si può naturalmente anche capire tutto il sistema e la funzionamento dell'intero sistema dell'elettronica che è basata anche essa sull'elettromagnetismo, sull'elettricità e sulla bio, bio naturalmente come anche gli alberi biologici funzionano con le radiazioni delle informazioni che ricevono dalla luce e tutta la natura, la biologia, le nostre cellule hanno la stessa base, cioè ci sono dei paralleli tra le varie scientifiche e le varie tematiche di materia, energia, tempo e spazio che ci possiamo semplicemente osservando, imparando, senza dover andare a fare la laurea all'università o che ne so. Dunque, volo astrale, se voi avete capito come funziona il computer, come funziona il telefonino, come funziona il trasporto di dati di un semplice email o sms e con la nostra mente la telepatia oppure la telechinesi funziona sulla stessa base, perché è una copia, cioè tutto quello che è elettronico proviene da una mente umana o da uno spirito o da un'anima o da quello che sia come lo vogliamo chiamare. Ci sono vari nomi, ogni cultura ha altri significati, in altre terminologie per la stessa cosa. Dunque, meditazione. Cos'è la meditazione? La meditazione è praticamente la capacità di aumentare la propria coscienza tramite l'informatica personale, cioè abbinare tutte le informazioni che abbiamo chiarificandole tra dati giusti e dati sbagliati e i dati sbagliati li cancelliamo con la meditazione e col tempo il nostro schermo della mente ingrandisce, cioè ingrandisce la coscienza e più si ingrandisce la coscienza più ingrandisce lo schermo del terzo occhio in cui possiamo, appunto, come con lo schermo del computer, come con lo schermo del telefonino, elaborare dei dati e l'elaborazione di questi dati dà una sintesi e un'analisi del riconoscere di chi siamo, da dove veniamo e dove andremo. Ognuno è libero secondo i propri sentimenti, più puri che sono, più contengono, diciamo, luce e luce sono informazioni e può poi elaborare i suoi dati facendo il suo lavoro, che sia un semplice artigiano, che sia un burocratico, che sia uno scienziato, un tecnico, un ingegnere, un architetto, tutto quanto basa su una certa struttura di architettura naturale che noi facciamo parte. E essere in rete significa naturalmente collegarsi, essere connessi con varie dimensioni e vari punti di vista. Il volo astrale, dunque, è una cosa, diciamo, che fa parte della natura e che fa parte delle nostre origini. Cioè, l'andare in giro a piedi, andare in giro con la macchina, sì, vabbè, è un mezzo di trasporto, comunque che bisogna differenziare nello specchio della coscienza che una cosa sono io e l'altra cosa, invece, è quello che io possiedo. Io possiedo un corpo e naturalmente lo piloto e sono io che lo tengo sano, che lo pulisco, lo nutrisco, eccetera, eccetera. Il volo astrale, dunque, come base in parallelo tra l'intelligenza naturale e l'intelligenza artificiale, con l'intelligenza artificiale, che è abbastanza avanzata e conscienziosa, si possono fare i paralleli per scoprire anche come è che è l'anatomia della propria mente, della propria coscienza e come è che si può aumentare lo sviluppo evolutivo personale di ognuno. Semplici osservazioni, dunque, per capire il volo astrale. Non è che con il volo astrale si esterionalizza dal corpo, in senso che si va a vedere cosa che succede su un'altra galassia. No, praticamente, con lo schermo della mente, del terzo occhio, si possono creare i vari indirizzi sulla rete spaziale dei fisici quantistici che ha scoperto Einstein, della rete dello spazio. Ci si può muovere su questi fili, sono dei fili, praticamente, che collegano vari punti e col volo astrale si può, praticamente, richiamare l'indirizzo web della natura e avere, poi, la visualizzazione e l'osservazione di cosa accade in lontane galassie. È chiaro che la NASA sta sviluppando varie tecnologie di salti del tempo, salti dello spazio e viaggi interstellari senza dover fare il viaggio del tempo, cioè riuscire ad arrivare da A a B, come, per esempio, con uno Stargate, di trasportare materia, energia, tempo e spazio da un punto all'altro senza dover fare i chilometri che ci sono tra i due punti. La stessa cosa già noi utilizziamo la teleportazione, appunto, quando mandiamo un'email. Voi avete presente che avete il vostro computer davanti al naso, mettete un testo, scrivete una lettera, ci mettete un video, ci mettete un link, ci mettete, caricate magari una canzone, delle immagini e queste poi le spedite e spedendole vanno direttamente al destinatario che magari da New York sta a Tokyo e ci arriva praticamente in 0,0 secondi. Non è che fa il viaggio come con l'aeroplano di 18 ore per trasportare la materia, è una forma microscopica o piccolissima elettronica sibernetica di teleportazione. Dunque, questa idea di come noi siamo abituati a utilizzare l'intelligenza artificiale è senza altro una copia di una mente umana scientifica che ha costruito il modello architettonico della funzione dell'elettronica sibernetica che noi utilizziamo tutti i giorni. L'origine è naturale. Allora, se noi abbiamo tutte queste sintetiche elettroniche che utilizziamo praticamente gratis perché le reti dovrebbero essere per comunicare, per scambiarsi i dati e per utilizzare una certa forma chiara e brillante, lucida di informazioni, in passato prima che inventassero l'elettronica utilizzavano sistemi di tecnologie, visto dal punto di vista dell'archeologia industriale, biotecniche che magari erano segrete oppure c'erano solo certa gente che era al governo potenti che conoscevano la sistematica di queste vecchie tecnologie che però sempre sulla base del trasporto di dati e luce. Magari utilizzavano degli specchi, oppure delle lenti, oppure dei meccanismi e sistemi di lenti e specchi. Comunque creavano delle reti di laser, di canali luce che trasportavano i dati che magari potevano comunicare così con questa bioelettronica del passato da piramide a piramide. Questo oggi naturalmente tutto si è sviluppato grazie all'informatica e all'intelligenza artificiale che dagli anni 50 praticamente è istituibile, cioè vuol dire non possiamo più vivere senza questi due paralleli tra il mondo virtuale e il mondo reale. Ecco, questi semplici stimoli per i nostri ascoltatrici e i nostri ascoltatori di Radio Astral Fly abbinato a Interstellar 100 di YouTube. Come sempre scriveteci, mettete i vostri punti di vista sotto i video su YouTube Interstellar 100 e per il resto scriveteci che continueremo anche nella prossima trasmissione di approfondire questi temi secondo le vostre richieste. Dunque vi ringrazio anche per oggi, è stato bellissimo darvi questi piccoli stimoli sul tema voli estrali in parallelo tra intelligenza naturale, come funziona l'universo e l'intelligenza artificiale che utilizzate ogni giorno con i vostri aggeggi, telefonini e computer. Vi auguro una buona giornata e come sempre non dimenticatevi che potete anche direttamente abbinarvi al AZK che sarebbe la coalizione anticensura, un sistema di rete e informazioni internazionali al di fuori di ogni servizio segreto, ogni sistema militare, politico o governativo dove potete avere nuove cognizioni, nuove informazioni che normalmente i media del mainstream non pubblicano, che sono censurati. Grazie mille e alla prossima. Buona giornata e divertitevi!